Questa giunta non riesce a seguire nemmeno l'ordinaria amministrazione. Marco Lorenzetti, capogruppo dell'Udc a San Benedetto, incalza sindaco e assessori sulla gestione della città in vista della stagione turistica alle porte. Anche a livello amministrativo la giunta è ferma, dice il consigliere di centro. Lorenzetti infatti ricorda che da diverso tempo non vengono convocate commissioni e da oltre 40 giorni non si riunisce un consiglio comunale. Ma non è solo questo a preoccupare una parte dell'opposizione. Siamo ormai al 20 maggio, ancora questa amministrazione non riesce a sistemare la spiaggia e la città per la stagione turistica. Ancora vediamo le ruspe sulla spiaggia, sporcizia e buche sugli asfalti. Noi come partito di proposta e non di protesta abbiamo anche presentato al Consiglio Comunale una delibera urgente sullo stato di crisi dell'economia del territorio e ancora oggi dal 2 febbraio il sindaco scappa con un topo e non riesce a portare in Consiglio Comunale per parlare e trattare di questi temi importanti. Una città in amministrazione controllata, dice Lorenzetti. La situazione è catastrofica, sindaco latitante e assessori che fanno veloci apparizioni. Il capogruppo dell'Udc conclude con l'aspetto finanziario. Per le periferie non ci sono soldi ma la riqualificazione di Piazza Matteotti e Via Laberinto ha già superato il milione di euro.